Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlare di un cartone animato che sicuramente conoscerete tutti, forse un po' dimenticato perché sono veramente tanti anni che non viene più trasmesso e sto parlando di Hello Sandy Bell, che è un cartone molto carino che presenta una serie di cliché, che però ha anche dei tratti di originalità e quindi alla fine risulta un prodotto molto gradevole. Hello Sandy Bell è un anime, quindi nasce proprio come anime, non esiste manga, e viene prodotto nel 1980, poi viene distribuito nel 1981 dalla Toei Animation. È abbastanza evidente che questo anime viene prodotto sull'onda del successo di Candy Candy, perché appunto ci sono dei temi molto ricorrenti rispetto alla storia di Candy Candy, che poi vi dirò, anche se l'impianto della storia poi è comunque diverso e ci porta a un lieto fine ricco di soddisfazioni, a differenza di Candy Candy. Diciamo che è un po' come se la Toei Animation con questo prodotto originale dicesse ecco questo è il tipo di prodotto che io voglio proporre al pubblico occidentale che si aspetta comunque un lieto fine per tutti. Parto subito col dire che io Sandy Bell lo guardavo da piccola all'inizio sulle reti private, perché è arrivato dopo sulle reti Mediaset. Io lo confondevo un po' con Lulu l'angelo tra i fiori perché sono molto simili nei tratti, le eroine di quegli anni sono tutte bionde e poi anche in Lulu c'era questo tema floreale che compare anche in Sandy Bell e anche il principe, il personaggio maschile di Lulu era molto simile a Mark che è il protagonista maschile della serie di Sandy Bell. Quindi diciamo fino a una certa età non li ho mai distinti troppo perché poi magari sulle tv private devi e ti beccavi una puntata, poi magari per un totto di giorni non guardavi più e poi magari riaccendevi e ti ritrovavi l'altro cartone, quindi insomma si creava un po' di confusione. Allora la storia di Sandy Bell, come vi dicevo ci sono delle tematiche molto simili a quelle di Candy che però è ambientato tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, mentre Sandy Bell ha la caratteristica di essere ambientato negli anni Ottanta, quindi di essere un prodotto diciamo attuale, ambientato proprio nell'epoca in cui il prodotto esce, in cui l'anime esce. Sandy Bell è una ragazzina di 12 anni che vive in Scozia, quindi troviamo subito un richiamo alla Scozia, come accade per Candy Candy, e che vive in appunto un villaggio della Scozia con suo padre, che è il maestro della scuola. Il padre le ha raccontato che la sua vera madre che è morta amava molto i narcisi e quindi lei è cresciuta con questa storia appunto di di questo amore della madre per questo tipo di fiore. E un giorno in un castello vicino arriva la Contessa di Wellington, che è una donna molto gentile, molto generosa, che lega subito con Sandy Bell e Sandy Bell riconosce in lei quella figura materna che le è sempre mancata. E quando vede che la Contessa di Wellington ama molto i fiori e ha portato dei narcisi da Londra per piantarli appunto lì in Scozia, si fa dare un bulbo di narciso e lo pianterà e quindi comincerà a creare un giardino segreto dove appunto al centro ci sarà questo narciso in memoria della sua mamma con tanti altri fiori intorno. Per questo vi dico che c'era questo tema floreale. E un giorno alcuni amici di Sandy Bell un po' bulletti scoprono che Sandy Bell sta coltivando questo giardino segreto e per puro spirito di divertimento glielo distruggono, fanno per distruggerglielo. Improvvisamente arriva un ragazzo che salva Sandy Bell e anche il giardino e quindi tira un paio di pugni, di cazzotti e manda via questi ragazzi un po' pestiferi. E Sandy Bell lo ringrazia, gli chiede il nome e lui dice ah chiamami semplicemente principe del giardino. Ecco anche qui troviamo il secondo tema ridondante rispetto a Candy perché in Candy avevamo il principe della collina, qui stranamente ci ritroviamo un principe del giardino che ha su di sé un po' secondo me, questa è una mia opinione personale, ha su di sé un po' le caratteristiche sia di Anthony, sia di Terence che di Albert. Perché Mark poi si rivelerà a essere, a parte il figlio della contessa di Wellington, che è una famiglia, quella dei Wellington, una famiglia nobile scozzese, però una famiglia decaduta diciamo, sono nobili ma non hanno tanti soldi diciamo così. Mark è un tipo idealista, sognatore, vuole fare il pittore, quindi ama i fiori, in questa sua caratteristica ricorda molto Anthony. Invece quando arriva a salvare Sandy Bell da questi bulletti ricorda molto Terence che appunto salva Candy quando alla Sample School Neil con altri due ragazzotti vuole aggredire Candy e poi a un certo punto si metterà a fare il vagabondo per trovare la sua strada per diventare pittore, in questo ricorda anche molto Albert senza contare poi che appunto lui si presenta come principe del giardino e questo appellativo è proprio rimanda quasi immediatamente al principe della collina. Da questo primo incontro poi Mark e Sandy Bell si rivedranno altre volte e quindi pian piano tra loro nascerà un tenero sentimento d'amicizia che poi sfocerà in qualcos'altro. Di Mark però è innamorata Kitty l'antagonista della serie, questa ragazza snob figlia di un ricco industriale che tenta quasi di ricattare Mark così come tutta la famiglia Wellington con i propri soldi perché fanno capire senza troppi senza mezzi termini che i soldi di Kitty Shearer, della famiglia Shearer possono risolvere i problemi economici dei Wellington. Però Mark ovviamente non ne vuole sapere, lui non è innamorato di Kitty e Kitty insomma cerca di costringerlo in questa storia d'amore. Capita una disgrazia perché a un certo punto i conti di Wellington muoiono in un incidente stradale e Mark resta da solo, Mark resta orfano di madre e di padre e proprio per non cedere al ricatto della famiglia Shearer decide appunto di partire per il mondo, un viaggio per il mondo, cercare poi diciamo la storia è inventata prevalentemente in Europa. parte quindi per cercare la sua strada, lascia una lettera a Sandy Bell, qui è molto importante perché la direzione della storia qui è già chiara perché lui non è che dice addio a Sandy Bell fine e sparisce, lui dice cara Sandy Bell io parto per trovare la mia strada, voglio fare il pittore, non so se riuscirò a diventare pittore o meno, voglio provarci ma ti prometto che tornerò da te. Quindi Mark fa una promessa molto chiara a Sandy Bell e promette di ritornare da lei. A questo punto c'è uno sconvolgimento anche per Sandy Bell perché suo padre si ammala gravemente e quindi finisce in ospedale. Qui in ospedale per puro caso Sandy Bell incontra anche un uomo, il signore Edward Lawrence che avrà un ruolo molto importante, un signore che sembra un po' burbero ma in realtà poi si rivelerà con Sandy Bell molto affabile, avrà diciamo un atteggiamento quasi paterno nei confronti di Sandy Bell e poi scopriremo che questo signore è in realtà lo zio, il vero zio di Sandy Bell. Dicevo appunto che il padre di Sandy Bell si ammala, sembra riprendersi, infatti esce dall'ospedale, però purtroppo quel Natale, che è un Natale molto triste per Sandy Bell, muore. Prima di morire il padre confessa a Sandy Bell che lei non è la sua vera figlia ma che Sandy Bell era stata salvata, era molto piccola ed è stata salvata appunto da quello che Sandy Bell crede essere suo vero padre durante un naufragio. Il padre di Sandy Bell con un amico infatti era partito per una crociera e aveva notato appunto a bordo della nave, aveva notato una donna con questa bambina piccola molto carina, molto graziosa, che sorrideva sempre, che era appunto Sandy Bell e quando questa nave era un'aufragata, il padre di Sandy Bell era riuscito a mettere in salvo questa bambina però purtroppo la madre era scomparsa tra i flutti, era scomparsa in mare e la bambina aveva in mano, quando è stata salvata, aveva in mano un orecchino a forma di narciso ed è per questo che il padre di Sandy Bell aveva raccontato alla ragazza che appunto la madre amava molto i narcisi. A quel punto il padre muore e dice a Sandy Bell di recarsi a Londra presso il signor Ronwood che era l'amico che era con lui sulla nave dicendole vai lì che sicuramente questo mio amico si prenderà cura di te perché si ricorda di te. Quindi scioccata dalla notizia, Sandy Bell dopo la morte del padre, che è anche una scena molto triste e molto drammatica decide appunto di tenere fede a quello che ha promesso al padre e si reca a Londra dal signor Ronwood. Il signor Ronwood quando la vede e quindi Sandy Bell gli dice chi è, resta sconvolto dalla morte dell'amico però accoglie caramente la ragazza e la ospita in famiglia come se fosse una figlia. In realtà la moglie e la figlia del signor Ronwood invece guardano Sandy Bell con molto astio, con molto odio cominciano a trattarla come una serva. In realtà qui il motivo c'è in effetti, anche se questo dialogo nell'adattamento italiano è stato censurato, perché la moglie del signor Ronwood chiede al marito se Sandy Bell è una sua figlia illegittima. In effetti la signora sospetta che il marito abbia avuto una relazione clandestina, abbia avuto un amante da cui poi si è nata Sandy Bell, che non è così. Fatto sta che i primi tempi in questa nuova famiglia per Sandy Bell sono molto difficili, però Sandy Bell pian piano poi comincerà a farsi voler bene e alla fine sarà trattata veramente come una figlia. Lei considererà quella la sua seconda famiglia. Perciò vi dico, questo è un cartone molto bello perché i personaggi evolvono, anche quelli che all'inizio sembrano i più cattivi, i più spregiudicati, i cinici. Alla fine per tutti c'è una speranza, a differenza di Candy Candy in cui, per dire, non c'è mai un'occasione di redenzione o di salvezza, per esempio per Iris Allegan o anche per Neil. A un certo punto vuole sposare Candy, ma comunque restano sempre dei personaggi molto negativi. Invece, quello che io trovo bello in Sandy Bell è che questo cartone esprime proprio ciò che tu ti aspetti da un'anime, cioè che tutti alla fine diventano buoni, anche se erano partiti insomma con dei sentimenti non troppo positivi. Intanto quindi Sandy Bell cresce in questa famiglia all'età di circa 14 anni, decide di cercare la sua vera madre. e anche perché nel frattempo appunto il signor Ronwood le ha raccontato la storia del naufragio che il suo padre, che il suo padre adottivo non le aveva raccontato. E coglie l'occasione, siccome deve mettersi alla ricerca della madre, anche diciamo si propone al signor Ronwood come reporter, perché il signor Ronwood è il proprietario di un piccolo quotidiano londinese, il Ronwood News, e quindi Sandy Bell comincia a lavorare come giornalista, quindi cogliendo l'occasione di fare la reporter in giro per il mondo, comincia anche a cercare informazioni su sua madre. E nel frattempo cercherà anche Mark, anche perché nonostante Mark sia scappato, si è partito per trovare la sua strada e le abbia detto che sarebbe ritornato da lei, però ovviamente Mark non sa che lei è andata a Londra e quindi comincia a cercare anche Mark. Insomma, e da questo momento in avanti questo cartone si sviluppa tutto sul tema del viaggio. A parte che ci sono anche delle cose di finzione che veramente, diciamo, le tralasciamo, per esempio come il fatto che Sandy Bell abbia 14 anni e senza avere una patente si mette a guidare questo furgoncino super tecnologico che il signor Ronwood le dà in dotazione. Ed è anche carina, queste scene sono anche carine, poi ci sarà anche il piccolo apprendista con lei e ritroverà anche il suo amico a quattro zampe, il suo cane che aveva in Scozia. Quindi cominciano tutta una serie di peripezie. Nel frattempo Kitty Shearer, che non è mica scomparsa, arriva pure lei a Londra e si mette sulle tracce di Sandy Bell perché pensa che Sandy Bell sappia dove si trova Mark. Quindi si mette a seguire Sandy Bell sperando di incontrare Mark, sperando di poter ritrovare Mark, di cui è ancora innamorata. E quindi si mette a fare pure lei la giornalista per un giornale concorrente. Nel corso delle loro avventure peripezie, che poi sono avventure anche abbastanza pericolose perché avranno a che fare con criminali, contrabbandieri, narcotrafficanti, infatti qualche scena un po' violenta è stata anche censurata. E quindi durante queste peripezie Sandy Bell si imbatte in un altro personaggio maschile, molto carino, molto particolare, che è Alec, che è un giornalista freelance, cinico, spregiudicato, che ha un modo anche abbastanza sconsiderato di ricercare le notizie e per questo è in viso ai giornalisti ortodossi, giornalisti che lavorano diciamo in maniera canonica seduti in redazione. E invece appunto Alec è un freelance che si procura le notizie in maniera anche poco pulita per poi rivenderle al miglior offerente. E quindi Alec fa la conoscenza di Sandy Bell e anche di Kitty. E all'inizio Alec si invagherà un pochino di Sandy Bell, però poi lascerà perdere quando capirà che lei è perdutamente innamorata di Mark. Perché durante tutte le loro avventure che poi si snodano tra la Francia, la Grecia, la Spagna, insomma ambientato un po' in tutta Europa, e questo tema era presente anche in Lulu, in Angelo tra i fiori, perciò vi dico che un po' li confondevo, anche se Lulu ha una componente magica che ovviamente Sandy Bell non ha. E durante queste avventure ci saranno varie occasioni in cui Sandy Bell e Mark rischieranno tra virgolette di incontrarsi, però non si beccheranno mai, insomma per tantissime puntate loro si inseguiranno sempre, si rincorreranno senza ritrovarsi. Questo è un tema che ricorda un po' Candy e Terrence, che per moltissime puntate si rincorreranno fino poi alla separazione di New York, ma la strada che prende la storia di Sandy Bell è completamente diversa. Una puntata che mi piace molto è ambientata, se non mi sbaglio, in Grecia, dove Sandy Bell in un capanno abbandonato trova un quadro che aveva lasciato Mark, un quadro molto bello, raffigurante, una donna sulla spiaggia. Anche perché c'è da dire che quando Mark aveva cominciato a dipingere, quando insomma i suoi genitori erano ancora vivi, aveva conosciuto Sandy Bell in Scozia, lui aveva sottoposto questi quadri, i suoi primi lavori a un pittore, che però lo aveva stroncato sul nascere, questo pittore aveva detto che i suoi quadri erano senza anima. E quindi lui, nel momento in cui parte, parte anche per ricercare il bello, per ricercare l'arte, per trovare l'anima, per trovare un'anima, un'identità da dare ai suoi dipinti. Ecco, anche questo lo trovo molto bello come tematica che ci viene proposta in questo cartone animato, che poi alla fine è un cartone animato per bambini, però poi alla fine presenta anche dei temi molto profondi. Quindi in tutto questo inseguimento, Sandy Bell che cerca sua madre, intanto insegue Mark, Alec che insegue in qualche modo Sandy Bell, un po' perché ne ha invaghito, un po' perché si incontrano continuamente, costantemente alla ricerca di notizie. Kitty che insegue Sandy Bell, insomma in tutto questo casino, se così possiamo dire, Sandy Bell si incontrerà più volte, ritornerà in auge, anche il signor Edward Lawrence, che nel frattempo sta cercando la sorella, che è scomparsa durante un naufragio in mare, circa 15 anni prima. E qui c'è il colpo di scena. Allora, mettiamo insieme un po' tutti i frammenti, così vi dico un po' come finisce questa bella storia. A un certo punto Sandy Bell e Mark si ritrovano. Mark mette in chiaro che non ha intenzione di sposare Kitty, in pratica la scarica proprio in maniera, non dico brutale però, Kitty rimane molto male, si dispera. e a quel punto anche il padre di Kitty capisce che non è il caso che la figlia sposi Mark che vuole fare il pittore, che non ne vuole sapere di prendere in mano le redini degli affari di famiglia. E a quel punto Kitty troverà in Alec un amico che la consolerà e poi tra i due nascerà una bella storia d'amore, addirittura si capisce alla fine della storia che convoleranno a nozze. Quindi vi dico, anche per il personaggio che all'inizio di Kitty, che all'inizio è cinico, un personaggio cattivo, che in tutti i modi vuole far fuori Sandy Bell, vista come la rivale da abbattere, da mettere KO, anche per Kitty ci sarà il lieto fine insieme ad Alec. Mentre Sandy Bell ha trovato l'amore con Mark che finalmente ha trovato anche la sua ragione professionale di vita nella pittura. Inoltre il signor Edward Lawrence in uno dei tanti incontri fortuiti con Sandy Bell racconta la ragazza che sta cercando la sorella che era appunto scomparsa in un naufragio e Sandy Bell quindi sospetta, non ne ha la certezza ovviamente, sospetta che quella donna sia sua madre e che il signor Edward Lawrence sia suo zio. Finalmente riescono, anche qui è un fatto abbastanza insolito per gli anime di quell'epoca, perché solitamente quando una protagonista rimane orfana, rimane orfana appunto, invece riescono a rintracciare la madre di Sandy Bell che era naufragata appunto, era finita sulle coste della Corsica, aveva perso la memoria ed era stata salvata dalle sore di un convento e quindi lei viveva lì da 15 anni in questo convento aiutando i bambini del paese, i bambini poveri e viveva lì una vita tranquilla. Quindi Sandy Bell con suo zio Edward arrivano in Corsica e finalmente Sandy Bell ritrova sua madre in un incontro molto commovente perché all'inizio sua madre ovviamente che ha perso la memoria non ricorda, poi vedendo Sandy Bell improvvisamente a questo flash le ritorna la memoria e madre e figlia finalmente si abbracciano con Sandy Bell che ha ritrovato la sua vera famiglia e quindi finale soddisfacente, lieto fine per tutti, la Toy Animation devo dire che ci ha regalato un anime veramente positivo, ricco di valori senza nessun tipo di finale sospeso come era capitato con Candy e questa rappresenta secondo me la grande novità, si vede proprio che questa è una scelta editoriale di una casa di produzione di anime e si vede anche che non è un anime tratto da un manga perché solitamente i manga, soprattutto quelli dell'epoca, avevano sempre degli aspetti di tragedia, di dramma e poi di finale incompiuto, diciamo così. Quindi personalmente è un anime che io ho apprezzato e apprezzo ancora tantissimo ogni volta che lo riguardo perché poi qualche anno fa, un po' di anni fa uscirono anche i DVD che adesso purtroppo sono fuori commercio. Ovviamente io prediligo la sigla storica piuttosto che quella di Cristina D'Avena, però ovviamente questi sono gusti. Bene, io per oggi mi fermo qui, fatemi sapere nei vostri commenti che cosa ne pensate di questo bellissimo anime e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!